Ciao bambini, oggi vi chiedo di scrivere queste sottrazioni sul vostro quaderno, ma non di risolverle, cioè non scrivete il numeretto vicino all'uguale, a destra dell'uguale. Perché? Perché dopo, con un altro video, proveremo a risolverle con la linea del... Vi lascio la sorpresa. Ora prendete il vostro quaderno blu e in modo ordinato scrivete le sottrazioni, senza scrivere il risultato dopo l'uguale, cioè quel numeretto che va a destra dell'uguale.